Buonasera a tutti coloro che ci seguono, benvenuti sul sito di Libri.tv per questa serata di diretta, la serata ordinaria del 9 novembre 2012, venerdì 9 novembre. Questa sera appunto consueta appuntamento con la virgola del direttore, soltanto che per una serie di motivi non è nulla di preordinato, ma è qualcosa di improvvisato, quindi praticamente siamo stati colti impreparati, sono stato colto impreparato, perché non ho preparato nulla, non ho avuto il tempo, perché sono stati giorni di preparazione di una puntata straordinaria, quella di ieri e oggi, e quello di cui vi voglio parlare, c'è stato un evento che abbiamo seguito e ci ha preso tutta la mattinata e quasi tutto il pomeriggio. Vi voglio parlare di questo perché sarà ovviamente un servizio che faremo questa nottata, penso che lo monterò in video, ed è stato un evento importante perché è un evento antiproibizionista, soprattutto con un occhio di fatto alla sanità, cioè alla possibilità di cura. Di cosa si tratta? Si tratta di una distribuzione in piazza Montecitorio della canapa marijuana che dir si voglia, che Rita Bernardini ha iniziato a piantare il giorno di una conferenza stampa alcuni mesi fa, una conferenza stampa all'interno di Montecitorio, quindi si è portata i semi con i vasetti e lì ha piantato queste piantine di canapa, da allora lei le ha continuate ad innaffiare, quindi a far crescere nel suo terrazzo, sono cresciute fino ad arrivare a maturazione e questa disobbedienza civile era finalizzata a praticamente la lotta non solo antiproibizionista per fini ludici, ma specificatamente per la libertà di cura con la marijuana canapa che dir si voglia autoprodotta, una cosa che in Italia è proibita, che in altri paesi è consentita, peraltro su questo tema possiamo annunciare, io penso con certa soddisfazione che in alcuni stati degli Stati Uniti addirittura l'uso ludico della canapa è stato consentito e comunque per tornare a questa mattina ovviamente sono stati coinvolti in questo evento che è stato fatto nel modo più plateale possibile davanti a Montecitorio e adesso diremo anche perché, sono stati coinvolti i malati di sclerosi, di SLA, tutti coloro che sono affetti da una malattia per la quale già oggi assumono e già da tempo assumono dei farmaci cannabinoidi tramite autorizzazione della ASL e li devono acquistare poi ottenendo rimborso dall'estero, dall'Olanda, con una spesa notevole per quanto riguarda il servizio sanitario nazionale ed è loro proibito di potersi piantare questa pianta in casa e poterla utilizzare, stante il fatto che questi farmaci non sono altro che cime di canapa, nient'altro, che si possano assumere in vari modi, si possano assumere in infusi, fumati o meno. Questo era un pochino il significato e la mission di questa lotta. E' stato scelto Piazza Montecitorio perché? Perché nell'ambito di un'iniziativa antiproibizionista, ma soprattutto di disobbedienza civile, Rita Bernardini ha dato la massima diffusione possibile a notizia che aveva appiantato, che lei aveva in casa queste piantine, già dal momento in cui le ha piantate all'interno di Montecitorio, quindi in pratica era tutto pubblico e praticamente era, ovviamente nell'ambito della disobbedienza civile, lo scopo era sollecitare all'applicazione della legge che avrebbe previsto l'arresto di Rita, perché peraltro non sarebbe stato un reato coperto dall'immunità parlamentare, essendo pure Rita parlamentare, perché in caso di flagranza di reato, quale appunto quella che oggi con la distribuzione in piazza lei ha messo in atto, l'immunità parlamentare non avrebbe agito. E quindi si è scelta questa location particolarmente esposta da un punto di vista di forze dell'ordine, quindi carabinieri, polizia e quant'altro che già sapevano che prima appunto di iniziare già erano allertati dalla presenza dei radicali. La disobbedienza civile, questo qua, mi sto facendo un po' il promo di quello che vedrete nel servizio, la disobbedienza civile diciamo l'evento si è maturato, Rita appunto ha potuto dislocare tutti quanti queste piantine ovviamente frammentate con le fluorescenze eccetera su un tavolino e disposte in alcune scatoline, il profumo era molto forte e peraltro molto buono e diciamo in un primo momento non succedeva nulla per quanto appunto fossimo circondati da forze dell'ordine, polizia e quant'altro, come se ci fosse un po' di indecisione. A un certo punto qualcuno è venuto appunto e ha disposto, diciamo si è portato via tutto questo materiale stupefacente insomma tutta questa sostanza come la chiamano loro con tutte le scatoline peraltro molto carine e scatoline di legno erano e le ha sottratte anche ai malati a cui Rita le aveva consegnati perché lo scopo era quello. Erano venuti da lontano, c'era Andrea Tricciuoglio, c'era Lucia Spiri che abbiamo avuto anche su Libri.tv, si erano fatti insomma un viaggio peraltro nelle loro condizioni abbastanza pesante stamattina alle 5 più o meno e comunque si hanno sottratto appunto queste piante che erano state consegnate da Rita in persona, sono stati presi i nomi e se li sono portati via. Quindi in pratica è stato messo in atto un sequestro. Allora un sequestro di cosa? Ovviamente era evidente che si trattasse di quello, evidentemente per le forze dell'ordine non era abbastanza evidente e quindi a questo sequestro, ecco perché la giornata si è prolungata veramente in un modo stressante, a questo sequestro è seguita l'analisi della sostanza per accertare che effettivamente si trattasse di canapa, la pesatura e poi dopo appunto questo primo approccio scientifico diciamo tra virgolette, non ci stavano i quantitativi di principio attivo e così via, però insomma l'accertamento a livello chimico che la sostanza era quella è stato fatto e quindi praticamente è stato emesso un verbale di sequestro che i soggetti a cui è stata sottratta questa sostanza, quindi Rita e tre dei malati presenti hanno dovuto attendere per la firma, per controfirmarlo lì sul luogo dove erano stati sequestrati e quindi l'attesa si è prolungata per quasi 5 ore in attesa e comunque insomma abbiamo filmato finalmente poi dopo quando è arrivato questo questo verbale abbiamo filmato tutto quanto e stranamente appunto Rita appunto ha chiesto motivazioni del fatto che non vi fosse appunto un arresto, che fosse disposto un arresto, questa sorta insomma di disparità perché quando capita a un comune cittadino gli arresti vengono spiccati appunto vengono disposti anche per singole piante, lì si trattava di 7 piante abbastanza grandi, quindi insomma c'era una quantità notevole, se riguardo alla quantità pare che fosse sui 400 e passa grammi, 450-500 grammi di sostanza attiva e quindi penso che siano stati, poi Rita aveva portato anche gli arbusti, insomma hanno pensato ed in sostanza più o meno il peso era quello. Vediamo un po' chiaramente come si svilupperà questa cosa, abbiamo girato tutta quanta la sequenza, la parte iniziale, l'arrivo dei malati che purtroppo faticosamente sono arrivati all'iniziativa già iniziata da qualche minuto, insomma da più di qualche minuto, abbiamo filmato alcuni personaggi simpatici che ormai possono incontrare facilmente intorno a Montecitorio perché in qualche modo sfruttano la visibilità costante di telecamere, di truppe televisive e quindi insomma abbiamo anche noi avuto modo di avere appunto su LibriTV questi personaggi, piccoli cameo che possiamo dire e monteremo tutto questa notte e vi faremo avere e divulgheremo appunto questo evento. E questo appunto volevo appunto farvi sapere con la virgola di oggi abbastanza estemporanea, abbastanza improvvisata se così possiamo dire e recupereremo ovviamente la prossima settimana. Per tutti coloro che ci seguono, che non ci hanno seguito ieri perché probabilmente la puntata di ieri che è stata una puntata straordinaria, non siamo riusciti a pubblicizzarla in modo adeguato, con soprattutto adeguato preavviso, appunto volevo dirvi che ieri c'è stata una puntata straordinaria che già potete vedere sul sito, sugli umori post congressuali e sto parlando della trasferta che ha fatto, della trasferta insomma della spedizione, se così possiamo dire, che ha fatto LibriTV al congresso di radicali italiani dall'1 al 4 di novembre scorsi. Abbiamo fatto appunto questa puntata straordinaria per cogliere un pochino i clamori con la partecipazione di alcuni militanti che è stato veramente una fatica immane poterli mettere insieme tutti quanti e potete trovarla, potete vederla sul nostro sito. Vedremo anche, peraltro, di completare, perché non è facile purtroppo con i mezzi che abbiamo, a completare la pubblicazione, il montaggio e la pubblicazione delle interviste del congresso di radicali italiani. Qualcuno già le ha viste, ce ne sono già, credo, una quarantina, è stato un lavoro veramente oneroso per una web tv con i nostri strumenti estremamente esigui. Non è purtroppo un lavoro che si limita soltanto al momento della ripresa, al momento delle interviste, è un lavoro che è perlomeno altrettanto, diciamo, soprattutto bisognoso di tempo, più che faticoso, bisogno di tempo quello del montaggio e poi della pubblicazione, utilizzando poi in ciascuna una DSL domestica e quella che purtroppo si riesce ad avere. E questa cosa, appunto, cercheremo di farla, io penso, nell'ambito di fino a questo weekend. Prendo qualche altro minuto, perché probabilmente abbiamo qualche piccolo problema tecnico, prendo qualche altro minuto per, ovviamente, parlarvi del parincesto di oggi. È un parincesto, per quanto più breve del solito, ma è molto interessante. E quindi, dopo questo spazio di sproloqui, che sono la virgola del direttore, avremo subito dopo la trasmissione curata normalmente da Giancarlo Calciolari a tavola con la filosofia questa sera. Il titolo sarà La vita impossibile. Aperture e chiusure della forma della comunità. Conversazione con Federico Sollazzo sulla comunità del futuro. Conduce Giancarlo Calciolari. Io penso di sapere che sia un contributo importante di Giancarlo in diretta e quindi lo ringraziamo per questo ritorno in diretta di Giancarlo. Subito successivamente, perfetto, ho avuto conferma che è in diretta dalla nostra regia che ci segue e quindi ringraziamo, ovviamente, la regia di Donato Volpicella. Subito dopo, appunto, a tavola con la filosofia, abbiamo lo Spazio Life. Lo Spazio Life è una presentazione dell'Associazione Radicale Antispecista Parte in Causa. Associazione che ha visto battesimo al congresso radicale e avremo una conversazione, da me, condotta con il segretario dell'Associazione, Giovanna Devetag, che è una delle nostre colonne portanti, e il tesoriere Gabriele Ceccarelli. Cercheremo un pochino di approfondire quelli che sono stati i momenti più importanti e i contributi e le presenze importanti in questo evento costitutivo, che è stato questo congresso costituente che si è svolto, appunto, mi sembra, il 2 di novembre, all'interno, nell'ambito del congresso di radicali italiani, e un po' parleremo sulla mission, un po' su delle informazioni che possono, in qualche modo, interessare, e divulgheremo poi subito dopo, questa associazione radicale antispecista che, appunto, è stata, si è autobattezzata Parte in Causa. Allora, a questo punto io vi ringrazio di avermi seguito nei miei prologui, vi do appuntamento, ovviamente, alle trasmissioni di liberi.tv e successivamente, appunto, a questa mia virgola, a tavola con la filosofia, con Giancarlo Calciolari. Grazie ancora, a più tardi.